Io vi sono amica fedele. 23 giugno 1978. Figli miei, quanto è dolce al mio cuore rivolgervi la mia parola. È la buona notte della mamma, ed è il saluto affettuoso di chi vuole essere per voi la migliore amica. Non dice lo Spirito Santo, chi ha trovato un amico, ha trovato un tesoro. Io voglio essere per voi questo prezioso tesoro. Avviene qualche volta che si abbia meno confidenza e fiducia nella mamma che in un'amica. Io desidero che mi mettiate a parte delle vostre confidenze, e che non abbiate segreti per me. Già per il dono della sapienza che Dio mi ha elargito, conosco tutto di voi, per cui non vi sarebbe possibile tenermi nascosta alcuna cosa. Io però desidero che con fiducioso affetto mi mettiate a parte di tutto ciò che vi dà gioia e di ciò che vi dispiace. Voglio che mi diciate quali sono i vostri desideri, le vostre speranze, le vostre aspirazioni, e voglio vivere della vostra vita come voi vi sforzate di imitare la mia. Io desidero, come amica dell'anima vostra, avvertirvi di ciò che è male, dei pericoli che correte il rischio di incontrare, e dei mali che potete trasformare in bene. In una parola, io voglio essere il vostro aiuto, perché possiate accumulare tesori in quel luogo dove nei ladri, nella tignola, potranno rubarli o distruggerli. Disse un giorno Gesù, fatevi degli amici con la disonesta ricchezza. Vale a dire, usate le cose di questo mondo per fare del bene a tutti. L'amicizia è un tesoro, vi ho detto, e i mondani cercano l'amicizia nella ricchezza, nella potenza, nella gloria e nel peccato. Voi attaccatevi a me, e traetevi dietro più anime che vi sia possibile, beneficando tutti nell'anima e nel corpo. Se voi doveste tener di mira solo il bene materiale dei fratelli, probabilmente non potreste stabilire con essi rapporti di vera amicizia, poiché, venendo a mancare la possibilità di beneficare, verrebbe meno la riconoscenza e l'affetto. Perciò, se è bene aiutare materialmente il prossimo, poiché attraverso questo aiuto si arriva a dare quel sollievo morale molte volte indispensabile, sappiate valorizzare la vostra amicizia ponendola su basi ben più solide, arrivando all'anima, facendo intravedere e gustare quelle ricchezze interiori che voi possedete e che volete condividere. Io vi sono amica fedele. Ciò che è mio è vostro, e non ho altro desiderio che di arricchirvi della grazia di Dio, e di quelle virtù che il Signore mi infuse fin dal primo istante del mio concepimento. Tutto voglio darvi, soprattutto con voi vorrò condividere quella gloria che Dio ha riservato a me e a tutti gli eletti. Se qualche volta vi mostro il mio disappunto per qualche difetto che possedete, anche questo dovete ritenerlo un dovere riservato all'amicizia che ci lega. Molti nemici, molto onore, si dice talvolta nel mondo, ma io vi dico, molti amici e grande gioia. Questa gioia purissima che provate nella vostra amicizia con me, desidero che diventi anche per voi il mezzo per unire i vostri cuori e per beneficarvi a vicenda, facendo del legame di amicizia che vi unisce, una cosa santa. Vogliatevi bene, e sia il vostro affetto l'ammirazione di quanti vi osservano, come l'affetto tra i primi cristiani era l'ammirazione dei pagani. Buonanotte, amici miei, e arrivederci.